Cosa pensa del ritorno di un grande calciatore come Zonzi? Magari! Ma come magari? Solo nei primi tre mesi abbiamo avuto 14 infortunati fuori rosa, quindi... Vieni qua! Quindi ragazzi... Ciao ragazzuoli, allora oggi è il 23 dicembre, ci stiamo avvicinando inesorabilmente a Natale ma non solo perché tra un mese o poco più, esattamente un mese e tre giorni, ci sarà il derby Roma contro Lazio e ovviamente faremo anche il derby degli youtuber come praticamente sempre tranne a settembre per cause di forza maggiore. Per anticipare come pre-derby ma anche come pre-natale, io e OneFootball, ovvero la migliore applicazione dal mio punto di vista sul mondo del calcio e che vi invito a scaricare qui sotto in descrizione, abbiamo pensato di fare un video carino, una sorta di pre-derby ma appunto come stavo dicendo anche video natalizio in cui sostanzialmente raduniamo un po' di youtuber romanisti, due per l'esattezza, e un po' di youtuber laziali, sempre due per l'esattezza. Io farò un po' da tramite e andremo in giro per Roma a chiedere sostanzialmente ai tifosi di Roma e Lazio il loro desiderio natalizio riguardante appunto la squadra del cuore. Ci sarà da divertirsi, quindi ovviamente prima di cominciare vi invito a lasciare il vostro desiderio qui sotto nei commenti, indipendentemente dalla squadra che ti fate, non è importante, ditemi la vostra. Detto questo vi presento gli ospiti. nome? Simone, Federico, Alessio, Gianmarco, cognome, Filippone, Antonini, Fregosi, Colucci, conosciuto come? Sikwolf, Antoine, su YouTube Alfreds, Justiz. Di che squadra sei? Ovviamente Roma, della Roma. Sono ovviamente della Lazio, ovviamente la prima squadra della capitale, Lazio. Parteciperai al derby degli youtuber? Certo, quest'anno parteciperò. Anche quest'anno sì. Non lo so ancora se parteciperò al derby degli youtubers, spero di sì, dipende fondamentalmente dai miei esami. Non lo so, sono leggermente, ma proprio leggermente fuori forma, probabilmente andrò come spettatore per supportare la mia squadra. Che cosa desidereresti per Natale della tua squadra del cuore? Desidero un po' di culo perché non ce la faccio più a vedi giocatori della Roma rotti, ve lo giuro, non gliela faccio più. Beh, che continui a giocare così perché stiamo andando bene e di andare in Champions League. Beh, considerando che nel momento in cui vedete questo video la Lazio e la Supercoppa l'hanno già giocata, quindi voi saprete il risultato e io no, a Babbo Natale chiederò un piazzamento in Champions per la Lazio a fine anno. Allora, per Natale vorrei, se possibile, la Supercoppa, se possibile, niente d'obbligo. E sei pronto ad andare a chiedere ai tifosi di Roma e Lazio cosa desiderano? Sì, prontissimo. Let's do this. Certo che sto pronto, namo. VAMOS! Bene ragazzi, siamo qui a Porta di Roma con Justice e Alfred da una parte, con Sickwolf e Antoine dall'altra e adesso andremo a fermare persone romanisti e laziali, se li troviamo, e chiederemo un desiderio di Natale, oltre a qualche domanda. Quindi restate con noi e godetevi il video. Allora ragazzi, siamo qui con i primi due ospiti di questo meraviglioso video, la chicca, non lo dico io, lo faccio dire a loro, intanto li presentiamo. Come ti chiami? Emanuela Pellacchia. Il cognome non serve, però comunque Emanuela. Emanuela. Tu ti chiami? Riccardo. Perfetto, Riccardo di che squadra sei? Lazio. Emanuela di che squadra sei? La mamma è della Roma. La mamma, c'è anche questa chicca. Direi che siamo in ottima compagnia, perché siamo con il signor? Umberto. Umberto e la signora? Elena. Con uno sfondo meraviglioso, l'albero di Natale, con dei colori non casuali, perché Umberto, di che squadra è lei? Della Roma. Della Roma, e lei? Niente. Secondo me è laziale. No, no. No? Se non entrava più a casa, giustamente. Allora, io chiamo i due romanisti, Sikwolf e Antoine. Prego ragazzi, venite perché adesso ci sono due domandine e poi io voglio fare un giochino con Emanuela. Prima però, due domandine, vai Sik. Fine anno, ce la faremo ad arrivare sopra la Lazio? Voglia, ma pure prima della fine dell'anno. Che dubbi sono. La sicurezza. Chiediamo, chi può decidere il derby quest'anno che vale tanto? Chi può decidere in che senso? Cosa pensa del ritorno di un grande calciatore come Zonzini? Magari. Ma come magari? Il derby, il giocatore che può decidere il derby? Chi può essere incisivo? Zeko. Io voglio fare un gioco con Emanuela, che comunque di calcio ha detto, capisce poco, ma è grande appassionata della Roma. Allora, mostriamo anche a casa. Allora, io, tifoso romanista, per questo Natale e in pratica adesso tu qui Emanuela scriverai, firmandoti in basso, un tuo desiderio. Non so adesso come... Cioè, c'è stava chiedendo Ibrahimovic. Magari. Anche meno, i budget. Deve essere una cosa... Un pensiero, un breve. Posso darti del tu? Allora, vedo che sei comunque un sognatore, mi parli di Ibrahimovic e ti do adesso questo foglio, ti do anche una penna e tu mi scrivi un tuo desiderio, ma anche bello di 10 righe, qualcosa di corposo, un bel messaggio per il derby, per il mercato, per quello che vuoi. Che quest'anno lo dico? No, 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 non serve. Poi lo leggiamo dopo. Il desiderio di questo tifoso romanista è che la Roma faccia un bel campionato e che faccia un bel gioco. Anche se perde, però, deve giocare bene. Deve metterci il cuore. Il cuore. Bravo, Umberto, dammi il 5. Il partito mi fa soffrire, mi fa soffrire il problema. Eh, no, soffri un po' tutti. Quello è normale, quello è normale. Ma quando soffri tu? Soffri anche lei, te duco? No, no, l'è proprio zero. Un'altra stanza, quei 90 minuti, proprio... Io, i 90 minuti, sto lì a freme. Anche il braccialetto gialloroso? Anche questo. Meraviglioso. Passano anche i puffi, è meraviglioso. Però... che quest'anno la Roma vinca. O che comunque sia prima della Lazio. E mi sembra che... Adesso però io sono curioso, sicuramente lo sono anche a casa. Vediamo come risponde il figlio di Emanuela. Ricordaci il tuo nome? Riccardo. Riccardo, tifoso della Lazio e quindi chiamo gli altri due, Justiz e Alfreds. Voglio sapere quanto ha goduto al gol di Pippo Caicedo al 97esimo e 30 secondi. Tantissimo. Stavo per spaccare a casa. Va beh, anche meno. Dobbiamo mandare messaggi di serenità, di felicità e Natale. Dobbiamo essere più buoni, non spacchiamo nulla. Alfreds cosa vogliate? Allora io ti chiedo che cosa ti aspetti dal mercato di gennaio. Lo sappiamo, è sempre un po' un tabù per uno tipo si la ziai, ma ti aspetti qualcosa? No. Avevamo a disposizione una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci righe. Lui in una riga ha espresso il suo pensiero. Che cosa hai scritto? Anzi no, perdonami, lo leggono loro, lo leggono loro, tu adesso l'hai espresso, lo legge, vai, lo legge Justiz e allora vediamo un po'. Vorrei arrivare sicuramente sopra la Roma. Ah, quindi c'è rivalità in famiglia però eh, perché di là Emanuele ha detto voglio arrivare sopra la Lazio, tu rispondi così, ma come la vivete Riccardo in famiglia questa rivalità? Cioè è accentuata tanto nei derby oppure chi per... Accentuata tanto. In generale? Più io. Ciao Bomberone. Ciao a tutti. Come ti chiami? Matteo. Edoardo. Intanto di che squadra sei? Roma. Roma. Risposta corretta, ma tra l'altro risposta comune oggi. Chiamo adesso due personaggi molto famosi che vengono dal web, non troppo belli, però famosi. Allora, chi comincia? Inizio io come sempre. Allora, il derby Roma-Lazio che ti ricordi più felicemente? Quello due anni fa, vinto per 4 a 1. Bella roba. Gol di Florenzi al volo, perotti, dici quello lì. Quello che Marchetti ci ha messo dura a fare la palla di testa del Sharawi tipo. È meraviglioso. Quello che hanno inquadrato lui allo stadio tra l'altro. Ah, hanno inquadrato Alfreds? Mi dispiace, il derby giusto proprio. Secondo te, il nostro caro amico e capitano, Florenzi, andrà o rimarrà? Eh, tasto dolente qui eh, però secondo me rimane perché è una bandiera. Adesso noi ti diamo un foglio, una penna e tu ce lo scrivi una, due, tre, anche dieci righe che sono chiaramente il massimo. Ho perso la penna? No, ce l'ha sì, qualfa, perfetto, vai. Il gol nel derby che ti ricordi meglio per piacere o per qualunque altro motivo? Un gol, non un derby ma un gol ovviamente della Roma. Allora, se non sbagli un gol di Yang Ambigua. Attenzione, attenzione, posso precisare, lui non ha detto Yang Ambigua, ha detto Yang Ambigua. Sì, perché era una cosa ambigua effettivamente quel gol, clamoroso. Però apposta l'ho detto, apposta. E ti ricordi quel gol a cosa hai servito esattamente? Eh, per vincere la partita. E poi? Perché c'era, era un derby decisivo per cosa? Per? Eh, per... L'ho detto ripassalo sto capitolo. Cazzo, me l'hai detto infatti, eh. Per la Champions League. Per la Champions. Per la Champions, per la Champions arriviamo secondi. Allora, Edoardo ci ha scritto il suo, anzi, i suoi desideri e quindi legge il prete stavolta, perché ci alterniamo un po'. Petagna, andare in finale di Coppia Italia. Di Coppia? Di Coppia. Andare nelle prime otto di Europa League. Non è quindi arrivare ai quarti di Europa League, finale di Coppa Italia, però il trofeo? Allora, Matteo ci ha scritto il suo desiderio e adesso lo leggerà il Buon Sick Wolf. Quindi è una grande responsabilità, hai scritto cose sensate, Matteo? Ho scritto cose sensate. Perfetto, Simo! Allora, vado a leggere la lettera e appunto il desiderio per questo Natale è un bel erede di Edin Dzeko, visto che, secondo lui, presto se ne andrà purtroppo, o se no adesso un terzino. Che è un bel contrasto, dalle erede di Dzeko al terzino, come mai? Allora, l'erede perché, come ho scritto infatti, purtroppo, secondo me, presto se ne andrà e sarà bastardo, sarà un brutto colpo e poi direi un... anche a lui, esatto, e beh, me ne metti su un piatto argento anche te e poi un terzino perché la pecchiamo parecchio. Siamo qui con... Federico. Federico pure lui. Di che squadra sei? Lazio, ovvio. Non siamo uguali sotto questo punto di vista, però io sono contento che tu sia della Lazio perché oggi non ne troviamo e allora chiamo a gran voce Alfreds, che appena detto non troviamo laziali si è intristito, ma è realtà, e Justice. Allora, può essere scontata, però è molto interessante. Qual è un giocatore, se dovessi scegliere, della Roma che vorresti a tutti i costi nella Lazio? Un giocatore. Beh, scelta tosta, comunque a Roma c'è una bella squadra quest'anno, però direi Pellegrini. Pellegrini. Pellegrini quest'anno mi piace proprio, sì, bel giocatore. Interessante. Però ha sottolineato quest'anno. Quest'anno. Magari l'anno prossimo cambia idea. Siamo qui con... Roberto. Grande Roberto. Io non te lo chiedo neanche perché c'hai la faccia di uno che ti fa... Roma. Ci sarà mai un erede del nostro amato, caro Francesco Totti? Me l'aspettavo questa. Secondo me, secondo me, regà, penso di no. Per i prossimi dieci anni penso di no, almeno per i prossimi. Io sono partito da dieci perché penso sia la cifra in cui spero di vedere qualche altro fenomeno all'interno della magica. Adesso ti diamo questo foglietto, scrivi una letterina a Babbo Natale o Babbo Laziale, chiamalo come vuoi. Scrivi anche dieci righe, anche perché poi finiscono. Allora, aspetta, però non leggercelo tu, ce lo legge, chi ce lo vuole leggere? Ce lo legge a lui, ce lo legge a Justice, ok? Allora, Champions, quindi piazzamento in Champions e rinforzo in difesa, che direi esclusi titolari ce ne abbiamo bisogno. Ma tu vuoi entrare in Champions, va bene, qualsiasi posizione o ne hai una al di là dello scudetto che secondo te può essere più raggiungibile? Facciamo un terzo posto, la Lazio ci può punta bene quest'anno. Quindi più terzo che quarto? Sì, più terzo ce la vedo. Facciamo che la legge Roberto, perché comunque vedo che ha scritto anche parecchio. Vai Robby, da romano, da romanista, vai. Caro Babbo Natale, questo Natale vorrei una vera magica, che sappia costruire delle azioni perfette, non ci siano più infortunati e che riusciamo a prepararci al meglio per la Coppa UEFA. Capisco che è Natale, ma non ci siano più infortunati, qua mi vai proprio, cioè manco il Dragon Sharon comunque. È il mio regalo di Babbo Natale che vorrei tanto per questa magica ragazzi, solo nei primi tre mesi abbiamo avuto 14 infortunati fuori rosa. Vieni qua, vieni qua. Bene ragazzi, questi erano pressoché i desideri delle persone che abbiamo fermato, alle quali abbiamo chiesto, come vi dicevo all'inizio video qui sotto nei commenti, se ti fate Roma, Lazio, Juventus, Torino, Fiorentina, Milan, ecco in quel caso dei desideri, in questo momento vi capisco, ecco amici rossoneri. Comunque fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, è stata un'idea che è venuta appunto a me in OneFootball e ci tenevamo a fare il massimo, quindi speriamo che abbiate apprezzato, in tal caso riproporrò un video del genere tra non moltissimo. Mi raccomando, restate aggiornati e seguitemi su Instagram perché prossimamente, ma per prossimamente intendo nei prossimi giorni, vi farò sapere la data del derby degli youtuber e poi tutti i lucky organizzativi. Detto questo, buon Natale, buon Santo Stefano, buon anno e buon tuzzi acqua pelata, un bacione, never give up e bella regà! Passo! Ok? Allora, vi siete già presentati, quindi io farò, siamo qui fino a... Anche meno, ok? Questa, quanta gente c'è! Io ne ho contati 11! Non ci posso credere! No, va tutto il momento! È grosso il centro commerciale, ragazzi! No, va tutto il resto!